Uno dei progetti di cui vi raccontiamo è questa collaborazione che ormai abbiamo da cinque anni con un'azienda che si chiama Florim su un progetto di riproposizione sul mercato di un brand storico, rilancio di un brand storico, che si chiama Cedi Ceramiche d'Italia. Siamo stati contattati proprio sin dall'inizio per immaginare come rilanciare sul mercato un brand che ha avuto una storia molto importante nell'ambito della ceramica industriale, però con una espressività quasi artistica. Ci siamo mossi cercando una relazione con la storia, ma anche cercando una proiezione contemporanea e, se possibile, anche immediatamente futura di questo brand. Grazie per la visione!